Un disegno che vale più di mille parole. Marika lo realizza in pochi minuti di impeto, una rabbia che trasferisce sul foglio e poi direttamente sul web. Un attimo e quel messaggio raggiunge il cuore di tutto il mondo. Io l'ho fatto la sera in modo totalmente spontaneo, anzi se fosse stata una cosa che faccio per lavoro ci avrei messo molta più attenzione, forse in certi dettagli. Quella è uscita di getto e l'ho caricata online prima di andare a dormire, sperando che magari potesse raggiungere un po' delle persone che ho nei contatti delle varie piattaforme e che facesse riflette e magari documentarsi su quello che era successo. Però non mi sarei aspettata che avrebbe rimbalzato con una velocità così forte. Marika non pensava che quel disegno potesse diventare un simbolo della battaglia di tante donne. A scatenare le sue emozioni e la rabbia era stata la notizia della sentenza del tribunale di Cork che aveva prosciolto dall'accusa di stupro un 27enne usando come prova a discolpa la biancheria intima indossata dalla vittima, 17enne, appunto il tanga. Io ho visto che il giorno prima c'era stata una protesta proprio con l'hashtag This is not consent, questo non è consenso, in cui le donne irlandesi hanno marciato a Dublino e hanno poi portato mutande per il nome di abbigliamento intimo davanti alla corte se non sbaglio. E molte donne in rete hanno iniziato a postare foto del loro abbigliamento intimo, sempre con questo hashtag. A me veniva più spontaneo fare un disegno che aprire il cassetto diciamo e forse sentivo molto forte questa rabbia per cui ho voluto che per esempio diventasse un po' una bandiera del fatto che abbiamo il diritto di vestirci e di indossare un po' quello che vogliamo e non implica automaticamente consenso. Giornali e televisioni di tutto il mondo si accorgono del significato tanto semplice quanto diretto di quel disegno, una bandiera da portare avanti e così Marika viene sommersa dalle chiamate. Nella notte mi ha contattato una reporter di AJ Plus che è il canale di informazione video di Al Jazeera chiedendomi l'autorizzazione all'utilizzo dell'immagine, chiedendomi se ero l'autrice reale dell'immagine e l'autorizzazione a montarla in un video che stavano realizzando sull'accaduto. Lì ho capito che la cosa stava prendendo proporzioni gigantesche e mi ha fatto molto molto piacere. Non voglio che questo disegno venga utilizzato per fini commerciali ci dice ma solo che svegli forse gli animi. Se dovessi lanciare un messaggio oggi non con la matita ma a voce cosa diresti alle donne? Semplicemente che un no è un no, più agli uomini che alle donne in questo caso.